Sono con il mister Fucili che ringrazio davvero perché ha atteso e ha ascoltato anche la disamina proveniente da Riccione con questo Chieti che davvero sta facendo la voce grossa, quanto di sfida ha lanciato la San Benedettese lei mettendoci dentro anche l'Aquila, come vede questo terzetto? E poi parliamo anche del Fossombrone Sono tre squadre chiaramente molto forti, ognuna con le proprie caratteristiche Penso che per adesso ci manca di vedere il Campobasso personalmente e poi la Vigor Senigallia quindi penso che il lotto di squadre che pretenderanno di vincere il campionato sono queste Poi ogni domenica però può succedere sempre di tutto, il campionato è estremamente difficile sta venendo su forte anche il Roma City, quindi ci sono diverse squadre che alla lunga diranno la loro di conseguenza adesso domenica abbiamo giocato a Chieti, uno stadio importante dove non siamo riusciti a fare risultato oggi contro un'altra corazzata abbiamo fatto dal mio punto di vista una grandissima partita Mister, le occasioni migliori le avete create voi fino ad arrivare al minuto 93-94 quando Lorenzoni ha avuto sul destro quel pallone per cambiare definitivamente il volto al match a microfoni spenti mi ha detto se prendevamo gol, insomma faceva una brutta fine Ecco, il Fossombrone è la sorpresa lo possiamo dire insieme ad altre squadre in questo girone il vostro ruolo soprattutto dopo aver giocato contro una squadra come l'Aquila che come ha detto lei ha giocatori forti, d'esperienza e con un mister che insomma ha una storia dietro Noi se siamo alla sorpresa non lo so, le sorprese alla fine, adesso è troppo presto per dirlo perché comunque stiamo facendo il nostro campionato sapendo che abbiamo determinate caratteristiche e dove l'equilibrio è molto sottile e dove la differenza la fa nei particolari Noi dobbiamo giocare tutte le partite in questa maniera e chiaramente come dicevo oggi magari capitolare in quella situazione sarebbe stato ingiusto e di conseguenza ecco, il dispiacere era per quello perché abbiamo fatto una grande partita, abbiamo avuto un paio di occasioni importanti uno nel primo tempo il colpo di testa, abbiamo preso un palo però la partita è stata completamente equilibrata perché su un campo insomma dove non era facile giocare un po' pesante contro una squadra che ha sicuramente muscolarmente più forza di noi abbiamo tenuto botta e anzi nel secondo tempo abbiamo comunque tenuto, siamo venuti fuori e abbiamo provato come loro a vincere fino alla fine, siamo rimasti con i tre attaccanti fino all'ultimo minuto di conseguenza tre attaccanti di quelli che avevamo a disposizione perché comunque oggi ci mancavano tre attaccanti Insomma Casola, Conti e Pagliari possono fare la differenza E Germinale, avevamo tutti i tre attaccanti fuori però chi ha giocato veramente ha dato l'anima e abbiamo giocato anche in maniera un po' differente perché avevamo caratteristiche differenti però sono molto contento della prestazione, il risultato abbiamo preso questo punto ce lo teniamo stretto e siamo riusciti subito ad alzare la testa dopo una sconfitta che è una cosa fondamentale perché in questo momento dobbiamo cercare di dare continuità il più possibile e quindi andiamo avanti su questa strada